La procura di Larino ha deciso di effettuare l'autopsia sul corpo del giovane indiano, rimasto vittima di un grave infortunio sul lavoro nelle campagne tra San Martino in Pensilis e Ururi. Con molta probabilità a lunedì nell'obitorio del Santimoteo verrà effettuato l'esame. Sul caso indagano i carabinieri di San Martino e Larino, che hanno anche sequestrato il trattore. Il ragazzo, 30 anni, di nazionalità indiana, stava lavorando in un terreno di contrada petriera, quando il trattore su cui si trovava improvvisamente si è ribaltato. Il mezzo pesante non gli ha lasciato scampo. Quando i medici del 118 sono arrivati, il giovane era già deceduto. Troppo gravi le ferite riportate. Sul posto anche i vigili del fuoco di Termoli, oltre che i carabinieri. I militari hanno recintato la zona e a nessuno è stato permesso di avvicinarsi. Si cerca di capire meglio la dinamica e la posizione lavorativa del giovane che a quanto risulta era assunto e aveva tutti i documenti in regola. Stava rando un campo coltivato a grano, molto scosceso. A chiamare il 118 è stato proprio il suo datore di lavoro. La notizia ha fatto subito il giro del paese, dove però il giovane era conosciuto da pochi. Abitava infatti nelle campagne di San Martino insieme alla giovane moglie.